Egli è buono perché la sua bontà dura in eterno. Una bontà senza fine. Può capitare di sentire credenti demoralizzati pronunciare la frase Dio non mi vuole più bene. Lo scoraggiamento fra brutti scherzi ci mostra una realtà distorta. Dio non cessa mai di amare il suo popolo. E gli agisce sempre con grande bontà verso tutti i suoi figli. Certamente ci sono circostanze difficili nelle quali ci si può venire a trovare, come un'improvvisa e lunga malattia, un inaspettato licenziamento, un'ingiusta bocciatura a scuola. Non pensare che se queste cose si verificano nella tua vita è perché Dio abbia smesso di volerti bene. Non è vero. Considera piuttosto che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Romani 8,21 Proprio perché la bontà del Signore dura in eterno, puoi star certo che nel momento della prova Egli ti incoraggerà e ti aiuterà ad andare avanti con nuove forze. Allontana dalla tua mente il pensiero che Dio non ti voglia più bene. E' una grande menzogna. Confida in Lui con tutto il cuore e spera nella Sua parola. Egli ti irà. Egli ti irà. Egli dà. Grazie a tutti